Paura nel Vallo di Diano per un nuovo focolaio scoppiato in una casa di riposo, questa volta ad essere stata colpita, è stata una residenza di Teggiano. Gli esiti dei tamponi comunicati ieri hanno evidenziato nove contagi, cinque anziani e quattro operatori. Le loro condizioni non destano al momento preoccupazione, solo alcuni presentano infatti lievi sintomi. Il contagio è emerso dopo che nella struttura è stato effettuato uno screening su personale e pazienti a seguito della positività riscontrata su un parroco di Morigerati che era stato nella RSA sia pure per poche ore. Il sacerdote, 78enne con già pregresse e patologie, si era sentito male circa tre-quattro settimane fa. Era stato ricoverato da prima a Sapri e poi a Polla, risultando sempre negativo. Poi era arrivato alla casa di riposo di Teggiano, ma qui si era sentito male ed era stato trasferito di nuovo a Luigi Curto, dove poi è risultato positivo. Dopo l'esito si è deciso di fare dovuti controlli anche nella casa di riposo di Teggiano. L'ASL e il Comune si sono subito attivati dopo la scoperta del focolaio. La casa di riposo è stata chiusa con i positivi al suo interno. Gli operatori, tutti di Teggiano, in realtà erano già isolati da sette giorni all'interno della struttura per evitare che l'eventuale contagio, poi divenuto reale, potesse diffondersi tra i familiari e il resto della popolazione. Per il momento gli ospiti stanno bene, ma vista l'età fragile e i rischi che corrono con il Covid delle persone con un'età avanzata, si è deciso di trasferire tutti e cinque gli anziani positivi presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania, che ha dato la propria disponibilità ad accoglierli. Si è lavorato con scrupolo e celerità per evitare che si ripetessero i drammatici bilanci di altre case di riposo del territorio, come quelle di Sala Consiline di Padula, colpite durante la prima ondata, e quella di Buonabitacolo, di cui proprio in questi giorni purtroppo si sono riempite le cronache.